Si è spento ieri dopo una lunga malattia l'avvocato Savino Cannone Nello per gli amici, il direttore generale a cui il territorio deve la realizzazione dell'ospedale Monsignor Di Miccoli di Barretta. Aveva 75 anni, nato a Gravina di Puglia, risiedeva a Noicattaro. Una carriera importante la sua diventò noto quando da commissario straordinario della ASL Bari 10 si trovò ad affrontare l'emergenza sanitaria provocata dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora straripante di migranti albanesi in quello che fu il primo grande esodo verso la Puglia. Una situazione complessa, gestita brillantemente e con grande umanità dall'avvocato Cannone, al punto che in seguito ricevette il prestigioso incarico di console onorario d'Albania per le regioni di Abruzzo e Molise. Passato alla Bari 2 come direttore generale, dichiarò subito la sua forte determinazione a realizzare il nuovo ospedale di Barretta, un'opera che la città e il territorio attendevano inutilmente da una trentina d'anni. La sua dichiarazione fu accolta con molto scetticismo e numerose critiche. Anche noi restammo piuttosto increduli, considerate le difficoltà incontrate da tutti sino a quel momento. Fortunatamente non avevamo fatto i conti, con le sue capacità manageriali e l'incrollabile determinazione. L'irrealizzabile progetto iniziale fu modificato, i finanziamenti trovati, il di Miccoli realizzato e anche modernamente attrezzato. Ma i meriti alla politica interessano poco e il presidente Cannone, poco incline ad inchinarsi ai potenti del momento, con una sorta di colpo di mano fu rimosso. Ne seguì una battaglia legale che vinse e che comportò il suo reinsediamento. E' bene ricordare che in quel frangente, se si accettuano, il dottor Francesco Salerno, poi sindaco di Barletta, allora capo dipartimento della radiologia e pochi altri, i più gli voltarono le spalle in un ambiente molto incline a passare dal servo encomio al codardo oltraggio. Successivamente passò alla direzione generale della Foggia 1 di Sansevero e poi a quella dell'ASREM, l'azienda unica sanitaria del Molise. Tra i suoi incarichi, anche quello di direttore di sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso e di coordinatore regionale della LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Con Savino Cannone se ne va uno dei nostri manager più brillanti e che riteniamo vada doverosamente ricordato tangibilmente quanto prima nell'ospedale di Niccoli, l'opera di cui andava più orgoglioso e che deve valergli la riconoscenza di Barletta e dell'intero territorio.